Come già accaduto con Piacenza, Pistoiese e Lucchese, l'Arezzo crea diverse occasioni anche con l'Alessandria, ma sono i grigi a sbancare il comunale per 2-0. Barlocco nel primo tempo e Fishnaller, nella ripresa, concedono i tre punti ai grigi. Una partita caratterizzata dei pali, clamorosi quelli di Moscardelli e Cutolo sullo 0-1. Mentre l'Arezzo scivola sempre più verso i play-out e con una penalizzazione ancora ad arrivare, quello che preoccupa di più e quanto avviene fuori dal campo, allo stadio assente Matteoni, bloccato dal febbre, il clima di sfiducia su quello che accadrà in settimana con la scadenza del 16 cresce sempre di più. Nel frattempo però prende quota lo scenario di una possibile cessione dell'Arezzo ad altri imprenditori, gira il nome di Fabrizio Lucchesi come possibile artefice di questa operazione della quale farebbe parte anche un imprenditore ora fuaghetino. Lucchesi, ex direttore generale del Pisa, era stato di recente accostato anche al Vicenza. Mi fa piacere che il mio nome venga accostato all'Arezzo ci ha detto Lucchesi al telefono, ma è una notizia priva di fondamento. Ogni giorno mi accostano a qualche squadra diversa. Conosco Matteoni, ma il fatto di parlarci non significa nulla al momento. Diciamo che forse qualcosa accadrà. Una situazione quella amaganto di grande incertezza della quale la squadra risente inevitabilmente. La fiducia dobbiamo averla finché non c'è la scadenza. Noi saremo lì, siamo qua, le sono sempre stati. Ci sono tante cose che andrebbero fatte diversamente, questo lo sappiamo tutti. Però finché non arriva la scadenza noi dobbiamo avere fiducia. E' più preoccupato per il campo o per quello che succede fuori? E' chiaro che è un cane che si morde la coda, sono tutte situazioni che vanno a incidere alla lunga, è normale. Però dobbiamo avere la forza di metterci lì e di fare qualcosa di più tutti quanti, partire da me. Dovevamo impostarla in maniera diversa, un po' più di sano coraggio. E' chiaro che ti tolgono i punti, poi perdi la partita. E' il risultato poi sportivo che peggiora. Ma è chiaro che il risultato sportivo hai meno possibilità di ottenerlo se le cose non sono fatte in una certa maniera, se veniamo da mesi di grande sofferenza. Però noi dobbiamo avere la forza di pensare positivo, di lavorare. Lavoreremo per migliorare la prima mezz'ora che conta una grande squadra, per cui devo dire la verità. Forse così c'è stato il primo tempo della vita erbese dove abbiamo visto una squadra che voleva determinare il gioco in maniera qualitativa e l'abbiamo subita. Come abbiamo subito questo, è chiaro che ci sono delle qualità importanti. Però noi dobbiamo avere più coraggio e io devo essere più bravo a trovare delle soluzioni.